Non c'è pace per la discarica Iblea di Cava dei Moricani che chiude con cadenza costante ogni tot mesi. L'ultima volta era stato a fine gennaio e adesso la storia si ripete con un problema tecnico, una nuova chiusura che di fatto blocca ancora una volta il ritiro dei rifiuti in tutti i comuni che usufruiscono di tale sito di conferimento. Quattro mesi fa si era trattato di un cavillo burocratico, così lo definì il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, tardava ad arrivare da parte della regione il provvedimento del Dipartimento regionale delle Acque dei Rifiuti. I continui solleciti, a tutti i livelli formali e informali, hanno per lungo tempo sortito solo l'effetto di continue rassicurazioni verbali che la situazione si sarebbe sbloccata a momenti. Aperture e chiusure quindi a singhiozzo che non lasciano a dubbi sul fatto che la provincia Iblea necessita di altri nuovi siti da individuare per il conferimento dei rifiuti, così come più volte dichiarato da più parti. In alternativa, l'unica possibilità che rimane è sempre quella del conferimento extraprovincia, proprio come a gennaio di quest'anno, quando diverse amministrazioni comunali furono costrette a conferire nella discarica di Gela solamente una piccola percentuale dei propri rifiuti. Da ieri quindi un'altra, l'ennesima chiusura comunicata dal sindaco Cassì, un fermo in contemporanea all'impianto di trattamento meccanico biologico e all'impianto di compostaggio di cava dei modicani, si legge nel comunicato stampa, sta limitando il servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni Iblei. L'invito rivolto ai cittadini resta quindi sempre il solito, temporeggiare ed evitare di esporre i mastelli nei prossimi giorni, fin quando non si sbloccherà la situazione della discarica. Si chiede pazienza e di tenere quindi il più possibile in casa la frazione del secco non reciclabile. La situazione dovrebbe normalizzarsi nei prossimi giorni della settimana. Il servizio di raccolta dell'indifferenziata verrà garantito solo per le scuole primarie e per le case di riposo. Nessuna criticità invece ammodica per le altre frazioni della carta, dell'umido e della plastica.